Fratelli bianconeri e non, eccomi qua per le consuete pagellasse, arrivate alla penultima volta di questa stagione per certi versi pessima, orrenda, che si allevia un pochino stasera con la vittoria della Coppa Italia. Però, come faccio sempre, prima delle pagellasse, facciamo una piccola analisi per quello che il signor Damon ha visto di questa partita. Allora, premetto che questa era una partita sicuramente molto importante, non tanto dal lato energie, anche quello, ma non quello principalmente. Questa era una partita importante per dare un segnale al campionato, alle squadre italiane, che la Juventus non è morta. È ferita, è molto, questo sì, ma le ferite se le è procurate da sola, però non è morta ancora. Ora, premetto col dire che questa vittoria non deve cancellare dieci mesi distenti, perché sono stati dieci mesi distenti enormi, incredibili. Abbiamo perso punti contro chiunque, con delle figure a livello di gioco barbine, si sono visti degli spettacoli che definirli degradanti e dire poco. Ciò non toglie però che la squadra di Andrea Pirlo fa due finali, Supercoppa italiana e Coppa Italia le vince tutte e due. Ora, secondo me queste due vittorie non devono andare ad intaccare i giudizi, almeno per quanto mi riguarda, che io ho sempre avuto su Pirlo e ve li ricordo. Quando Pirlo fu nominato allenatore della Juventus, che passò dall'Andre 23 senza passarci direttamente in prima squadra, io da subito dissi, signori non possiamo giudicarlo, c'è il Covid, non ha fatto le amichevoli, non ha fatto presentazioni, molti giocatori sono arrivati che lui non sapeva nulla. Diamogli delle attenuanti a questo allenatore e ho detto aspettiamo gennaio. Abbiamo aspettato gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, risultati pessimi soprattutto a livello di gioco, di squadra. Causati tutti da Andrea Pirlo, secondo me no. Secondo me no e la partita che lo ha dimostrato è proprio quella di stasera, dove tu hai visto che quando i giocatori trovano gli stimoli giusti, i giocatori danno il massimo. Stasera questa squadra voleva portare a casa la Coppa e l'ha portata a casa. Allora quello che mi chiedo è perché stasera è basta? Dove sono stati i problemi durante l'anno? Colpa di Pirlo e di uno staff che non ha saputo motivare i suoi giocatori? Non lo so, questo non lo so perché io non sono alla Continassa, non sono a Torino a vedere gli allenamenti, non so quali possono essere i problemi, ma di certo è una serie di fattori che ha portato questa squadra a non stare sempre concentrata. Non tutti i giocatori hanno lavorato per come dovevano lavorare. È vero, sicuramente c'entra, ma c'entra anche il fatto che questa è una buona squadra ma non è uno squadrone e quindi quando tu non hai in campo dei leader veri, dei leader veri, tutto diventa più difficile. Mi spiego, vi faccio un esempio. Il signor Miralem Pjanic, da me tanto criticato, io non vedevo l'ora che se ne andasse, lo sapete tutti, però purtroppo ho dovuto constatare che nei confronti di Arthur era un fuoriclasse planetario, non fosse altro anche proprio a livello di leader, era importante. Come giocatore lasciamo perdere, va via dalla Juventus, arriva al Barcellona, ha sempre detto che era uno dei suoi sogni, non si è più visto, è sparito. Io non credo che alla Juventus potesse essere etichettato un fuoriclasse, va al Barcellona e sparisce, ma indipendentemente da questo sicuramente era più leader di quello che è Arthur, che è assolutamente un giocatore che per me può andar via anche domani mattina, tanto per capirci, e insieme a lui almeno altri sei o sette sicuro. Ma detto ciò, perché solo oggi? Quindi vuol dire che questa squadra la grinta nelle sue caratteristiche ce l'ha, la rabbia ce l'ha, la voglia di vincere ce l'ha. Perché solo stasera? È una domanda che probabilmente ci faremo dei mesi, perché? Perché adesso non dimentichiamoci che domenica c'è o l'apoteosi finale oppure ci sarà comunque la grande delusione dell'Europa League. E da quel momento lì esatto, sia in un caso che nell'altro, la società dovrà far vedere di ragionare con l'intelletto e non a capo di... Chiaro? Perché? Perché bisognerà comprare dei giocatori nuovi e ci vogliono giocatori di livello. Bisognerà sapere cosa fare con l'allenatore, perché, signori, questo è un altro dei dilemmi. Continuare a compirlo? Oppure sostituirlo con un allenatore magari di nome? Non lo so. Di sicuro questa partita di stasera dà di tuo molti pensieri. Questo è sicuro. Scusatemi. E adesso veniamo alle pagellazze. Come sempre. Buffon. Dieci. Dieci perché va ringraziato per tutto quello che ha dato alla Juventus. Dieci perché è una leggenda che mai nessuno potrà cancellare dal cuore Juventino. Dieci perché credo che sia stato uno dei più grandi fuoriclasse portieri della storia del calcio. Dieci perché, anche se nella carriera fa qualche errore l'ha fatto, boia chi non li fa, credo che vada ampiamente perdonato sotto tutti i punti di vista. Quindi grazie Gigi per quello che sei stato, grazie per quello che hai fatto, ma alla fine arriva per tutti purtroppo. La tua, per quanto mi riguarda almeno, era scoccata già da qualche tempo, ma oggi come oggi credo di doverti soltanto ringraziare. Quindi dieci, meritatissimo. Dalla partita per lui non voglio neanche parlarne. Quadrado. Gli do sei e mezzo. Gli do sei e mezzo perché gli ho visto fare alcune cose da par suo e grege. Andare a coprire in difesa, a lanciare. Anche stasera non so quanti chilometri ha fatto un'esagerazione. Nel primo tempo anche lui l'ho visto un pochino difficoltà. Si è ripreso ovviamente come tutta la squadra nel secondo tempo diventando anche pericoloso. Ma credo che sia veramente uno dei pochissimi leader di questa squadra. Sei e mezzo secondo me è il mio voto giusto. De Ligt. Gli do sei. Gli do sei perché il primo tempo di Mattis non mi è piaciuto molto, devo dire. Si è fatto soprattutto nei primi 15 minuti uccellare due o tre volte. Ormai ho preso questa parola, uccellare, mi piace. Si è fatto uccellare due o tre volte, un paio di volte tra l'altro da Zappata e poi passato questo momento si è rimesso in sesto e nel secondo tempo è stato egregio e ho visto il miglior De Ligt. Ma nel primo tempo ha sofferto un po' troppo. Chiellini gli do sei, solito grande lottatore, ma è un giocatore che per me resta pericoloso perché tutte le volte che è in area propria corre il rischio di causare un calcio di rigore. È un giocatore, per carità, io gli voglio bene, tutto quello che sia, ma sono sull'onda di Buffon. Quando è il momento di dire basta bisogna dire basta. Io credo che anche per Chiellini a 36 anni ormai sia arrivato il momento della fine. Però siccome non abbiamo la certezza che alla fine della stagione se ne vada, per il momento mi soffermo sul 6. Gli ho visto anche a Chiellini stasera fare un paio di cose che non mi sono piaciute neanche. Danilo, 6, è un altro dei leader di questa squadra, lo è diventato facendo secondo me una buonissima stagione e anche stasera praticamente non ha quasi mai sofferto, però si è proposto anche poco in avanti rispetto ad altre partite. Però sicuramente è un giocatore che quest'anno è tra quelli che va apprezzato maggiormente. McKennie gli do 6, il giocatore americano deve riconquistare dei punti, a mio parere. Era partito molto bene, molto forte, poi a forza di infortuni ne ha avuti due che lo hanno bloccato un po', soprattutto uno ad un'anca che conosco quanto possa essere dolorosa e questo sicuramente ha frenato un po' la sua crescita. È un giocatore secondo me da tenere, bisogna dargli fiducia perché sicuramente ci potrebbe tornare veramente molto molto utile. Stasera se la cava con un 6. Bentancur, 6 ma un 6 di stima. È un giocatore che non può far partire o ripartire la squadra, non è all'altezza. Fino che si tratta di rubare qualche pallone in qua in là va pure bene, ma per quanti ne recupera altrettanti ne perde. È ovviamente un giocatore del quale io sarei disposto a privarmene, io personalmente. Rabiogli do 6, una partita che nel primo tempo lo ha visto abbastanza sugli scudi, nel secondo tempo devo dire che è calato parecchio e secondo me ha causato questo un po' di rallentamento nel centrocampo juventino, però ciò non toglie che il suo l'ha fatto, quindi un 6 di stima glielo diamo. Chiesa gli do 7, non era in forma, era un periodo di appannamento e per fortuna che non è in forma, perché se fossi in forma non so che cosa potrebbe combinare. Un giocatore insieme ad altri 3 o 4 dal quale ripartire, sicuramente. E come ho detto in altre occasioni, gli darei la maglia numero 10, senza ombra di dubbio. E non perché mi frega niente se è regista o non regista, un giocatore così ti fa la differenza in praticamente quasi tutte le partite che gioca. Questi sono i giocatori che piacciono a me. Kulusevski, udite, 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 che la capra si sia trasformata in un capogregge? Partita sontuosa stasera, veramente, e questo mi fa tanto, tanto, tanto piacere. Partita spettacolare, gol bellissimo, li sa fare, e l'assist per il gol di Chiesa, bellissimo. Ma soprattutto tutta la partita, ha giocato a tutto campo, ha recuperato pallone, ne ha perso qualcuno, ma voglio dire, visto il ruolo e quello che doveva fare, assolutamente ci sta. Per cui, come abbiamo detto tante volte, è uno dei giocatori che in questa stagione mi ha deluso di più, ma è un giocatore sul quale dagli perlomeno un altro anno per poter vedere dove può arrivare. Sicuramente stasera per il proseguo mi fa ben sperare. Mi auguro di vederlo spesso così. Stasera sette e mezzo. Indiscutibile. CR7, e qui arriviamo un po' alle dolenti note. Partita assolutamente spenta. Non c'è stato, per niente. Non ha combinato praticamente nulla da segnalare. Non lo so. La domanda che mi pongo è, nonostante l'amore che io ho come giocatore per Cristiano Ronaldo, vale la pena dargli anche l'anno prossimo 31 milioni a un giocatore così? Va versi trentasette anni, signori, questo non è da dimenticare. Io un esamino me lo farei, però sarà la società a decidere. E per ultimi Di Bale e Bonucci, i quali gli ho dato senza voto perché hanno partecipato alla manovra, ma hanno fatto veramente poca roba. E poi per ultimo Pirlo, al quale Pirlo stasera do un sei e mezzo perché ha accannato quasi tutto il primo tempo la squadra, quasi tutto, quasi tutto. Nel secondo tempo la Juventus è salita in pompa magna annullando quasi la Dea. E annullare la Dea, signori, non è facile. Sicuramente l'Atalanta un po' ci ha messo del suo, nel senso che è crollata un po' fisicamente, ma davanti ha trovato una Juventus che veramente gli ha permesso molto molto poco. Quando i meriti ci sono bisogna darli. Ciao a tutti.